quel maledetto poliziotto è una trappola lo capisci o no che cosa sta succedendo non entrare in cose che non ti riguardano le loro storie vi coinvolgeranno i loro sentimenti vi appassioneranno le loro emozioni diverranno le vostre lasciatevi incantare anche voi le nuove puntate prossimamente in prima serata rai 1